Salve ragazzi, oggi il nostro Luca ci parlerà di... Un sacco di cose, quindi magari vi farò un altro video. Ma perché ho deciso di farvi un video comunque anche di questo? Perché quella app la costa un pochettino di più. Questa app qui invece c'è sia gratis, dove abbiamo un po' di limitazioni ovviamente, però c'è da contare che a pagamento significa tutto quello che si può avere su questa app costa neanche 5 euro. E raga, 5 euro, ok, per un'app può sembrare tanto, ma pensate a quanto può costare un metronomo di quelli multifunzione fisici, cioè di quelli veri, non le app. Costano tanto tanto di più, quindi alla fine ci pensiamo un metronomo bello, con tanti suoni, che ha tante possibilità a 5 euro, non è tanto. Adesso andiamo sull'app, ma prima vi ricordo di andare sul sito Gastube, che trovate qui sotto in descrizione, a leggere l'articolo di oggi, dove vi parlo anche sull'articolo di questa app. E vi ho fatto un po' di immagini, vi ho fatto vedere un po' di cose, vabbè andateci, poi mi fate sapere che ne pensate. In pratica l'applicazione come funziona? Inizialmente la vedete in questo modo qua. Noi abbiamo una ghiera in mezzo con cui poter cambiare la velocità, la cosa molto bella è che la velocità qui va da 10 fino a 500, non è male, perché non tutti i metronomi riescono sempre ad arrivare a queste velocità. Però comunque abbiamo anche la possibilità di cambiare in modo fine la velocità, grazie a queste due freccette con cui possiamo andare di 1 bpm per volta, quindi è molto molto comodo. Poi ovviamente però qui in basso a destra abbiamo anche il tap tempo e che cavolo ne so se una canzone è a velocità ad esempio ce lo becca subito al volo. Quindi anche ad esempio live o comunque per riuscire a beccare velocemente la velocità di una canzone questo è molto comodo. Poi andiamo in basso a sinistra, vi farò vedere tutti questi pulsanti oggi. In basso a sinistra abbiamo la possibilità di aumentare il numero di pulsazioni che avremo nella battuta e a destra invece abbiamo la possibilità di cambiare la quantizzazione delle nostre note, quindi possiamo andare da interi fino a 32esimi. Qui sotto abbiamo anche la possibilità di modificare il tipo di quantizzazione. Io posso rimanere in 4 quarti, vi faccio sentire, a 80 di metronomo, io posso decidere di far suonare il metronomo in quarti, in ottavi, oppure scegliere di far suonare solo il secondo dei due ottavi, terzine complete, sedicesimi, terzine con pause, cioè ad esempio questo sarà secondo e terzo di terzina, primo e terzo e primo e secondo di terzina, eccetera, eccetera, eccetera. Poi andiamo qui in alto a destra. Qui abbiamo la possibilità, adesso quello che vedete è quello di default, perché io di solito uso l'iPad per gestirmi la questione velocità o metronomi. Se io clicco qui e mi apre tutte le mie varie playlist, posso decidere di mettere una nuova lista, che chiamo The Gas Tube Dance, e posso mettere nuove canzoni. Ad esempio, se schiaccio New Song, posso mettere subito un nuovo titolo di canzone, il titolo di canzone sarà Ciao ragazzi e benvenuti, il tempo sarà 120, beat 4, not 4, perché comunque siamo in 4 quarti, dico Save, e lui me lo mette direttamente qua, nella mia cartella, trovo Ciao ragazzi e benvenuti. Ovviamente se voglio fare un'altra canzone, clicco New Song e ne faccio un'altra. Noi possiamo anche decidere di farci un nostro tempo che vogliamo, ad esempio 5 quarti. Qui sopra vedete abbiamo la possibilità di modificare l'accento, nel senso un accento come il primo suonerà in un modo, un accento come il terzo suonerà in un altro. Ve lo faccio sentire. Per salvarmi il metronomo basterà andare su Gas Tube Drums e cliccare questo tasto qui a sinistra. Questo è per salvare direttamente una nuova canzone che chiamerò oggi parliamo di, e sarà perfettamente come ho impostato prima. Questo praticamente è così. Andiamo in questa sezione, la cosa importante è che abbiamo vari tipi di suono, se io faccio andare il metronomo, posso avere tanti tipi di suono diversi, e posso avere anche ad esempio batteria, cowbell, questo è fighissimo, oppure anche la voce. Oltre a questa cosa qua, che può anche non interessarci, abbiamo Rhythm Trainer. Allora, Rhythm Trainer, raga, è una figata. Quando fate gli esercizi per i timing, un esercizio fighissimo, che in realtà non vi ho mai fatto vedere, ma ve lo farò vedere prima o poi, è quello di dire suono una battuta sul metronomo e poi per una battuta il metronomo non esiste, quindi si stoppa. Oppure, una battuta col metronomo e tre battute senza metronomo, che sarà più difficile. Questo serve proprio per quello. Se io vado su Rhythm Trainer, lui mi dice, play one bar, oppure posso anche dirgli due, tre, quattro, quello che voglio, e mute one, six, eight, ten, quello che voglio. Andiamo un po' più su di velocità, tipo 120, e gli dico, suonami una battuta e mutami due battute. La battuta viene mutata. Per due battute lui non suona. Vedete? Quindi questo è molto, molto, molto bello. Bar counter. Allora, bar counter, in pratica vi faccio vedere cosa fa e poi vi spiego perché lo usavo. Semplicemente tu lo fai partire e lui, ogni battuta, conta, va avanti. Tre, quattro. Perché è utilissimo? Perché io, che sono pigrissimo, quando studio, quando studiavo lo stick controller, cosa facevo? Gli dicevo, ah, bar counter, perfetto, io lo stick controller devo fare 20 ripetizioni ogni esercizio. Quindi io mi mettevo il mio bar counter e quando arrivava a 20, cambiavo esercizio. Da 1 a 20 facevo il primo esercizio. Da 20 a 40 del counter facevo il secondo esercizio. E così via. Era una figata perché non dovevo star lì mai a dire uno, due, tre. Me le contava lui. Più o meno vi ho detto tutto. Manca l'ultima parte che è questo pallino in fondo con un orologio segnato. Questa è una figata perché serve per studiare. La questione è che noi possiamo decidere se far aumentare il tempo, questo ci serve per far aumentare il tempo, e lui ci dice vuoi far aumentare il tempo tramite bars, cioè tramite battute, o tramite tempo, proprio tempo minutaggio. Se io gli dico, ad esempio, fammelo aumentare tramite bars, cioè tramite battute, gli dico ogni 10, every 10, aumenta di 2 bpm. Il tempo iniziale voglio che sia 90, il tempo iniziale voglio che sia 200. Lui qui sotto mi dice approssimativamente i minuti che ci metterò, quindi per passare da 90 a 200, ci verranno 16 minuti. Io lo faccio partire, lui mi farà 10 battute a 90, poi 10 battute a 92, poi 10 battute a 94, poi 10 battute a 96. Ok, quindi spero di avervi chiarito un po' le idee, ho cercato di dirvi tutto, se c'è qualcosa comunque che non ho detto, ve lo dico nelle storie di Instagram, così almeno siete obbligati a seguirmi. A parte di tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e anche su Facebook, di mettere un mi piace qui sotto, se il video vi è piaciuto, di andare sul sito Gastube a vedere tutti gli screenshot, le cose che vi ho messo di questa fantastica app. Vi consiglio ragazzi di comprare questa app, perché sono 5 euro spesi veramente bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!